Quello che mi dà molto fastidio è sempre questa ipocrisia un po' pelosa, perché in realtà perché si usa questo caso? Si usa questo caso per dire, visto quanto è cattivo e nazista Orban, che visto che è cattivo e nazista, è alleato della Meloni e della Lega, del centrodestra, motivo per cui per proprietà transitiva e reduzione di Hitlerum, allora anche loro sono brutti e cattivi nazisti e un domani se continueranno a governare succederanno cose terribili anche da noi, cosa che non è assolutamente vera. L'Ungheria ha le sue regole. Allora, a punto di vista psichiatrico mi sembra una cosa interessante. Allora, sentiamo, Cufano, arrivo da lei. No, scusami, scusami, fammi finire. Con un punto di vista psichiatrico, mi perdoni, si occupi dei suoi casi. Mi sembra un volo pindarico interessante, ma ci sta parlando di la detenzione in catene di una donna, di una cittadina italiana portata in catene e... Quindi lei cosa pretende, mi perdoni? E lei sta parlando di... Cosa farebbe lei, no? Perché è interessante, visto che non fa nulla sui detenuti italiani, cosa vuole fare sui detenuti italiani? Le ispezioni le ha fatte, Vicerno. No, voi siete state al governo fino all'altro giorno. Cosa avete fatto per migliorare la corrente? Allora, fermi tutti. Vi diamo una notizia, un aggiornamento. Allora, primo aggiornamento è fuori dall'aula del...